Buonasera a tutti, il professor Angelo Manitta è docente negli istituti superiori, ha fondato nell'anno 2000 la rivista internazionale Il Convivio, molto importante, e l'omonima Accademia, alla quale è collegata anche una rivista trimestrale, letteratura e pensiero, molto interessante perché incrocia diverse discipline ed è ispirata al principio dell'interdisciplinarietà, appunto letteratura e pensiero, già di per sé il titolo appunto allude al fatto che non si possono stabilire confini netti, non si possono separare discipline come la filosofia, la scienza, la letteratura, la poesia, ma si tengono insieme. E diciamo che è autore di molte pubblicazioni, quindi è una bibliografia praticamente sterminata, ma in particolare vorrei segnalare un'opera colossale, un'opera davvero anche originale, che è Big Bang, il sottotitolo Canto del villaggio globale. Un'opera poetica complessa, vasta, articolata, 12 libri e 108 canti e, riprendendo i modelli classici, il giudizio di Giorgio Barberi Squarotti, che vi leggo, suona così. È la nuova commedia universale che passa in rassegna le figure esemplari della storia, della letteratura, delle arti, della musica, del sacro, sempre drammaticamente e rigorosamente incise fra racconto e giudizio. La grandiosa e ricchissima opera, folta di reinventati personaggi della storia e della letteratura, è un poema unico nei nostri tempi, per complessità e invenzione. Così Giorgio Barberi Squarotti. Ma il professor Angelo Manitta non è autore soltanto di quest'opera, che già di per sé, diciamo, richiede una vita, richiede una vita, ma di numerosi altre opere. Intanto la saggistica, ad esempio, Giacomo Leopardi, pessimista ma non troppo, 1998. Poi Aci e Galatea, riproposizione topografica di un mito, nel 2007. Il Giobbe di Antonio Sarao, poema eroico del romanticismo siciliano, pubblicato nel 2009. E' codirettore del Dizionario biobibliografico degli autori siciliani, 800 e 900, pubblicato nel 2011. Ed è codirettore anche del Dizionario biobibliografico dei musicisti di Sicilia, 2013. E tralascio qualcosa, perché sarebbe un elenco troppo lungo e non voglio annoiare nessuno. Ha scritto anche di narrativa, come una favola, 1997, Dei, eroi e isole perdute, 2001. Dame, cavalieri e paladini, 2003. A partire da Boccaccio, 2005. Ma poi autore anche di saggi di storia locale. Capitoli, consuetudini e usi civici di Castiglione di Sicilia, con un appendice, Randazzo e lingua glossa, 2008. La valle dell'Alcantara dalla preistoria all'età contemporanea, 2012. E per finire, per essere più sintetico possibile, un libro recentissimo, La botanica di Dante, piante erbacee nella commedia. Un libro che spaventa per l'erudizione che dimostra, ma accanto all'erudizione anche un acume critico e un impegno argomentativo per naturalmente decidere quali sono i casi dubbi, quali sono le interpretazioni preferibili di certi passi. Ecco, che è dato riscontrare in questo libro, naturalmente, sulla scorta di una conoscenza della letteratura classica davvero formidabile. Ecco, e non posso che complimentarmi, dobbiamo tutti complimentarci con questa figura di intellettuale poliedrico e veramente di rara competenza. Ecco, e gli do la parola, naturalmente, stasera il professor Manitta ci parlerà dei aspetti botanici nella commedia dantesca, piante erbacee ed arboree. E grosso modo, ecco, è l'argomento che ha appena trattato in questo saggio, molto importante. Io ringrazio il professore Tugnoli per la sua generosa presentazione, ecco, e soprattutto per aver anche presentato questo volume, La botanica di Dante, che effettivamente è stata una scoperta anche per me. Mi sono interessato da tanti anni di critica letteraria, soprattutto di critica di autori siciliani. Ecco, ma Dante mi ha affascinato fin da quando andavo all'università. Però questo argomento è un argomento che ho sentito sempre vicino. E quindi l'argomento di questa sera di cui noi parleremo sono appunto gli aspetti botanici nella commedia, le piante erbacee e quelle arboree della selva oscura. Perché della selva oscura? Perché ho immaginato questa selva oscura ideale, però, ecco, dove ci sono piante arboree e piante erbacee. Le piante erbacee le abbiamo trattato in quel volume. Le piante arboree sarà oggetto di un prossimo volume che uscirà probabilmente all'inizio del 2022. Però per parlare di piante erbacee ed arboree di Dante nel loro contesto naturalistico e boschivo, appare quasi scondato prendere le mosse proprio dai primi versi della commedia. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Nella commedia il rapporto di Dante con l'ambiente è realisticamente molto stretto, come si vede in innumerevoli occasioni. Oltre l'incipit, vorrei ricordare solo la selva dei suicidi del canto tredicesimo dell'Inferno, paragonata alle zone impervie dislocate tra Cecina e Corneto nella maremma toscolaziale. E ancora la selva del paradiso terrestre, paragonata sotto qualche aspetto alla pineta di Ravenna. Se è lecito chiedersi il significato allegorico della selva dantesca, le piante specifiche invece di solito sfuggono ad una tale interpretazione, in quanto spesso sono correlate ad un personaggio o ad una determinata situazione o utilizzate come paragone o exemplum. In ogni caso, però, viene da chiedersi quali possano essere le caratteristiche botaniche della selva di Dante e se esiste soprattutto uno specifico sottobosco. Inoltre, quale possa essere l'impatto emozionale del poeta con la natura e se può intravedersi un suo senso ecologico. Ma soprattutto viene da chiedersi quali possano essere le fonti letterarie e scientifiche a riguardo. Le fonti dantesche sono essenzialmente due che lo hanno aiutato, diciamo, nell'essere meticoloso e preciso nella descrizione arboree, nella descrizione delle piante. Da una parte abbiamo l'osservazione comunque empirica della natura con cui lui mostra di essere sempre a contatto, di sfrutarne i meccanismi, di contemplarla, di avere con essa un rapporto di venerazione e timore, a volte anche di paura. Dall'altra, le conoscenze letterarie fondate su molti autori classici che, come autori classici, possono essere principalmente Virgilio, Orazio, Ovidio e Stazio. ma soprattutto quelli che effettivamente hanno scritto in maniera scientifica, dico scientifica in maniera tra virgolette, sulla natura e che hanno descritto le piante attraverso la loro struttura naturale, come ad esempio Aristotele. E di chi Aristotele e Dante potevano conoscere il Deplantis, un testo latino tradotto dall'arabo. Plinio, la naturale sistoria, certamente nota a Dante, si parla di botanica dal tredicesimo al ventiquattresimo libro, Isidoro di Siviglia, le cui etimologie dovevano esserli utili per la configurazione enciclopedica dell'opera, ma per il vandaggio, rispetto a Plinio, di una maggiore sintesi. Il libro settimo è importante per l'aspetto botanico. Alberto Magno, nodo più come teologo, il suo De Vegetabilibus in sette libri offre a Dante le conoscenze generali su ogni singola pianta, notando anche le peculiarità di foglie, fusto, radici, percorsi linfatici, frutti, ma anche gli ambienti in cui vivono e le fasi di crescita. Ugualmente, Pietro De Crescenzi. Pietro De Crescenzi è un autore poco noto, il cui trattato sull'agricoltura in dodici libri, completato nel 1304, fu certo l'opera naturalistica più diffusa nel basso e medioevo, insieme a quella di Alberto Magno, al punto che, scritta in latino, venne, nello stesso quattordicesimo secolo, tradotta in folgare e addirittura tenuta in considerazione nell'Accademia della Crusca per alcuni temi. e noi abbiamo cognizione che Dante abbia potuto conoscere, benché non lo citi mai, quest'autore. Sotto l'aspetto botanico possiamo trovare nell'intera opera dantesca piante erbacee, arboree o boschive, da frutta, fiori, piante resinose, aromatiche, esotiche. Le piante erbacee a volte sono infestanti, ma anche se infestanti diventano per Dante spesso termini di paragone assumendo tante volte un significato allegorico positivo come il giunco, ricavando da esse spesso una inaspettata positività come per il gremigna o per l'olio. L'erba per Dante è genericamente quell'insieme di piante che costituisce un prato, ma l'erba è anche il pasto da dare agli animali. Per Dante il prato è costituito spesso anche da fiori in che in esso possa nascondersi l'insidia come il serpente, proprio quel serpente che ha incannato Eva. Le erbe però, lui questo lo sa bene, non sono tutti uguali, e ogni erba ha un suo nome e una sua peculiarità e Dante sa anche che ogni erba si conosce per lo seme in quanto ogni erba fa il suo seme e in maniera inversa ogni seme produce la sua specie di erba. Ma vediamo in particolare il contesto di alcune di queste piante erbacee cominciando dalla spelta e dalla verbena. La spelta è una specie di grano scientificamente noto come triticum spelta o anche triticum estivum mentre la verbena verbeno officinalis è un'altra pianta arbustiva. Vengono citate queste nel tredicesimo canto dell'inferno dove fanno parte di un complesso paragone per spiegare la trasformazione delle anime dei suicidi in alberi. Difatti l'anima come spiega appunto Pier delle Vigne al pellegrino che si trova davanti cioè a Dante l'anima quando si separa dal corpo dal quale la stessa per sua sciagurata determinazione si è separata a forza giunta davanti al tribunale di Minosse questi subito la invia nel settimo cerchio quello dei suicidi dove essa cade in la selva e non le parte scelta ma là dove fortuna la balestra qui vi germoglia come gran dispelta sorge in vermena e poi in pianta silvestra quindi l'evoluzione apparente dell'anima del dannato è simile ai tre stati della vegetazione dapprima somiglia ad un'erba quasi indistinta rispetto alle altre verbe in un secondo stadio si trasforma in una pianta cespugliosa con dei fusti abbastanza rigidi quasi semi arbustivi successivamente si trasforma in pianta silvestra cioè in pianta da bosco il delle vigne ad esempio è trasformato in pruno albero che qui non è da intendere come prunus domestico cioè il pruno che fa i suoi frutti quello che noi manciamo bensì il pruno selvatico il prunus spinosa perché perché è un albero che non produce e spoglio non ha frutti in questo contesto ecco l'osservazione però da fare ci sono alcune osservazioni che si possono benissimo fare e e dal punto di vista lessicale l'utilizzo del termine spelta difatti Dante utilizza un termine che non è utilizzato da nessuno tanto che alcuni critici hanno visto spelta quale forzatura a causa della rima l'osservazione è apparentemente logica perché in realtà tutti i testi contemporanei a Dante scrivono spelda con la ma il testo botanico di Pietro De Crescenzi ecco ritorno a quel Pietro De Crescenzi che abbiamo citato prima è l'unico a nostra conoscenza sia nel testo latino sia in quello volgarizzato quindi effettivamente il termine che veniva utilizzato a Bologna dove Dante stette parecchio tempo ecco proprio intorno al 1300 questa notazione quindi ci spinge a dire che Dante abbia conosciuto l'opera del Bolognese riguarda la verbena invece di solito gli autori classici intendevano per verbena non una pianta specifica ma un cespuglio una fronda che veniva utilizzato per scopi religiosi ma qui in Dante bisogna intendere effettivamente lascia intendere lui perché è una pianta che cresce in maniera cespugliosa alla verbena officinalis quindi dal punto di vista botanico è determinante e determinata la pianta che lui utilizza tra le altre piante erbacee abbiamo la festuca la festuca è una pianta strana diciamo noi la conosciamo per il termine evangelico è una pianta erbacee di cui esistono effettivamente numerose varietà tra le quali si ricordano la festuca ovina e la festuca rubra essa è utilizzata da Dante come paragone nel trentaquattresimo canto dell'inferno ma al primo impatto non gli fa pensare alla festuca evangelica quindi ad uno stelo nocivo che va nell'occhio ma indica i dannati immersi nel cocito dove essi trasparien come festuca in fetro se il paragone induce a pensare però ad uno stelo secco ecco poi alla fine vedremo ecco queste piante per nonno e magari interromere sarebbe stato opportuno farlo ora ma siccome non sono molto diciamo pratico ecco con diciamo col cambiare le immagini ecco allora lo vedremo poi alla fine vedremo queste immagini quindi se il paragone induce a pensare ad uno stelo secco inglobato nel vetro o nel ghiaccio probabilmente nel ghiaccio d'altra parte questa è l'interpretazione comune che si dà a questa festuca nel ghiaccio d'altra parte bisogna ci induce a pensare alla festuca che nell'antico diritto germanico in quello romano era un bastone o un fuscello di paglia privo della spiga con valore simbolico collocata dentro una custodia anche di vetro per non alterare appunto la condizione o situazione formalmente accettata tra due persone cui si contrapponeva la ex festucazio con cui giuridicamente si rinunciava a un diritto dovere già sancito in precedenza in realtà i dannati sarebbero colpevoli della rottura o violazione di un patto tra due o più persone infatti in tale cerchio si trovano per contrappasso secondo questa visione i traditori dei parenti della patria degli amici dei benefattori cioè coloro che hanno rotto un patto socio-familiare la cui stipula può essere rappresentata da quella festuca in senso giuridico ben conservata nel vetro anche per il l'olio ecco l'olio è una erba da pascolo come la festuca e anche per il l'olio abbiamo una visione un po' diversa da parte di Dante difatti nella citazione di questa pianta Dante ancora una volta non si lascia condizionare al primo impatto dal passo evangelico infatti la pianta compare in due junture una prima in purgatorio nel secondo canto del purgatorio una seconda nel dodicesimo canto del paradiso la prima del purgatorio è una scena naturalistica che ha e vero una sua contestualità classica brigiliana da una parte e ovidiana dall'altra ma il paragone delle anime ammaliate dal canto di casella che fuggono alla vista di catone come quando cogliendo biado o l'oglio gli colombi adonati alla pastura fuggono alla vista di qualcosa che li spaventa è assolutamente originale ed è una immediatezza naturalistica nuova rispetto ai modelli classici nella seconda occorrenza invece il l'oglio nel discorso di San Bonaventura assume un suo significato negativo di male da essere estirpato cioè criticando proprio quei frati che come la zizzania hanno travisato lo spirito della regola francescana il riferimento è in pratica a Umbertino da Gasale e Matteo d'Acqua Sparta che sono stati superiori dell'ordine francescano ma quello che è da notare è il fatto che Dante possa distinguere due tipi fondamentali di l'oglio come fanno anche le sue fonti quindi lui conosceva bene questa pianta in particolare Plinio quello cioè l'olio da pascolo che non è nocivo noto come l'olium perenne che è il primo caso praticamente e quello nocivo con effetti tossici che si chiama scientificamente l'olium temulentum che è il secondo caso quindi Dante conosceva botanicamente le sue piante e i suoi esempi sono calzanti proprio per questo motivo la stessa situazione incontriamo con la gremigna erba nota come infestante per eccellenza di cui incontriamo in Dante tre occorrenze però con peculiarità diverse nel primo paragone il poeta trae della pianta una nota addirittura positiva esalta la sua umiltà paragonando ad essa due personaggi del purgatorio Fabio Lambertazzi e Bernardin Tafosco che pur di umili origini verga gentile di piccola gramigna senza perdere la loro personalità sono giunti ad elevate cariche nel secondo paragone quello del purgatorio ecco in questo caso vede invece le qualità infestanti della gramigna alla quale vengono paragonate le piume che ricoprono interamente un carro che rappresenta la chiesa la chiesa che è vittima della corruzione in seguito dalla donazione di Costantino secondo alcuni o secondo altri dei movimenti ereticali secondo altri ancora dall'Islam ci sono diverse interpretazioni ma noi non ci addentriamo in queste interpretazioni quello che interessa invece è la gramigna che copre questo carro una terza occorrenza ce l'abbiamo nelle egloche scritte in latino nella prima egloche infatti ricorre il termine gramina dum lenta boves per gramina ludundo dice Dante dove gramene può significare proprio prato di gremigna ecco i tre contesti a questo punto sono diversi e quindi le peculiarità scientifiche delle tre gremigne devono essere diverse e di fatti sono diverse si può quindi pensare per l'umiltà alla cinodon dactilon una specie gracile con diromazioni striscianti e radicanti con un'altezza massima di 30 cm circa nella seconda occorrenza possiamo pensare invece alla helimis repens che è una specie di gramigna con rizzoma ramosa nodoso più grosso della cinodon dactilon con dirammazioni aeree alte fino a un metro più alta quindi a coprire infine data la peculiarità dell'ambiente il prato erboso di gramigna potrebbe essere costituito appunto dalla poa pratensis o poa trivialis che è una gramigna da pascolo e ancora oggi viene utilizzata come pascolo ecco tra le piante infestanti ecco da ante in uso diverso di queste piante infestanti abbiamo anche il trifoglio e l'ortiga il trifoglio trifoglio repens è l'unica pianta di cui non viene evidenziata alcuna positività la sua occorrenza è nel convivio e vi paragona la mala opinione cioè quella che chi è nobile di nascita è anche nobile d'animo idea assolutamente errata da Dante quindi è un'idea da sradicare fin dall'inizio proprio come fa il contadino con il trifoglio anche l'ortiga è un apax ricordo una sola volta nel purgatorio nel canto 31 al verso 85 di penter simipunse ivilortica dice Dante dove già penter e punse lasciano pensare ad una delle peculiarità della pianta nota appunto per le sue forti caratteristiche irritanti anche in questo caso però Dante ne conosce molto bene le peculiarità botaniche in quanto come afferma già Alberto Magno ce ne sono di diverse specie ma che sostanzialmente si dividono in due una specie morta e una specie viva quella morta non punge invece quella viva punge e brucia apparentemente comunque sembrano uguali ma quella che brucia è a sua volta sempre secondo la descrizione che ci fa Alberto Magno solo di due specie e c'è un'ortica maggiore che è la meno comune nota come urtica dioica e un'ortica minore nota come urtica urens qui in questo passo l'ortica metaforicamente è beatrice che costringe Dante alla riflessione e a rivedere il suo attraviamento morale Beatrice in un certo senso come l'ortica lo spinge a guarire dalle tre viate idee che lo hanno scottato proprio come evidenzia Alberto Magno per la pianta il quale dice che tra le proprietà dell'ortica c'è anche quella di guarire le scottature e le ferite e di aprire le vesciche e guarirle rumbite apostemata et comfort eis quindi l'esempio di Dante è azzeccato anche in questo perché l'ortica ha questo valore il giunco il giunco anche questa è una pianta molto importante nella teoria botanica di Dante e il giunco è una di quelle piante che amano l'umidità come la canna e come il papiro il giunco il giunco appare nel primo canto del purgatorio dove ricorre per due volte a distanza di pochi versi in questo contesto però il giunco acquisisce una vastità interpretativa sia sotto l'aspetto metaforico che allegorico da interessare addirittura l'intero canto e condizionare implicitamente alcune azioni successive in tutto il purgatorio infatti Catone rivolto a Virgilio ecco gli consiglia di cingerlo di un giunco schietto e che gli lavi il viso botanicamente il riferimento dantesco ecco è esatto è preciso ma è al giunco che comunemente egli può riscontrare all'ambiente padano e che cresce in maniera spontanea sulle sponde dei fiumi o degli stagni in Italia le specie più comuni di giunco sono tre abbiamo il giungus effusus detto anche giungo comune la tifa latifolia detta anche giungo tipo alude e infine lo scirpus lacustris albescens di queste tre specie quelle che maggiormente fa il caso di Dante cioè che non ha nodi perché questo giungo non deve avere nodi e la tifa latifolia infatti essa è a cespuglio come il giungus effusus ma vi è una differenza sostanziale la tifa latifolia ha delle foglie lunghe in nastriforme che raggiungono anche la lunghezza di due metri senza alcun nodo o gemma il giungo comune invece il giungus effusus non ha foglie vere e proprie ma ha degli steli lunghi pieghevoli e una in fiorescenza a pennacchio con un nodo da cui partono dei fiori quindi non è completamente senza nodi dal punto di vista allegorio invece il discorso è molto complesso se già infatti molti commentatori antichi hanno visto nella narrazione dantesca qualcosa di eretico il critico moderno può anche andare oltre e interpretare il personaggio di Catone e anche di Dante quindi nel senso di una figura catara tutta la scena ha il sapore di una iniziazione in particolare quando Catone suggerisce di fare a Dante e Virgilio che poi Virgilio e Dante fanno cioè quello dell'indossare il giungo all'abluzione del volto e all'accostarsi all'acqua ecco hanno sono dei rituali tipici dei catari Dante infatti è l'aspirante perfetto come si chiamavano i catari che quale adepto viene condotto al consolamentum cioè alla cerimonia di adesione finale che il primo ministro gli concede e in questo passo più avanti poi si parlerà anche di questo primo ministro che si interpreta un angelo che comparirà quattro canti sette canti più dopo successivamente ecco Catone potrebbe avere qui quindi la funzione di consolato maestro nella parte di colui che presenta l'aspirante perfetto al primo ministro il suo consiglio ma che cosa fa pensare anche a questo ecco ci sono dei dati ben precisi il suo consiglio in seconda persona corrisponde infatti a quella che l'adepto diceva a quell'espressione che l'adepto diceva quando doveva ricevere il consolamentum cioè doveva essere inserito nella setta dei catari come bene chiarisce Malcolm Lambert in un ambio e dettagliato saggio sui catari di qualche decennio fa mi pare che sia di una ventina d'anni fa venticinque anni fa infatti durante la cerimonia il candidato ripeteva le parole suggerite dall'anziano queste sono le parole che diceva il cataro per essere ammesso vengo a Dio che corrisponde al vadunque di Dante a voi e alla chiesa e al vostro santo ordine per ricevere perdono e misericordia per tutti i miei peccati che corrisponde all'espressione dantesca che li lavi il viso e ogni sudiciume quindi stinche ovviamente altri dettagli su questo argomento che ho approfondito lo si può trovare nel mio libro come diceva il professor Tugnoli e la botanica di Dante tra le altre piante da palude o comunque che vivono nell'acqua abbiamo la canna e la cannuccia di palude in un ambiente simile a quella del giunco vive infatti la cannuccia di palude ad essa è collegabile la canna comune che in Dante appare non solo nel suo aspetto botanico ma anche nei sensi traslati di gola di strumento musicale e di stilo per scrivere soprattutto nelle opere latine la cannuccia di palude come si legge nel quinto canto del purgatorio riferendo le parole di Jacopo del Cassero corsi al palude e le cannucce e il braco mimbigliarsicchio caddi è l'unica occorrenza dantesca che si tratti della cannuccia di palude arundo fragmites australis e non di altre graminaci affine lo evidenzia in maniera inequivocabile Dante non solo lo stesso termine cannucce ma anche il contesto soprattutto la palude e il braco cioè il fango che ne danno una conferma oltre ai toponimi che precedono il verso come mira e oriaco abitati appunto che sono dislocati in luoghi paludosi per eccellenza addentrarsi nell'ambiente in cui vive tale pianta è molto pericoloso sia per il complesso intreccio delle piante sia per il fanco che per l'acquitrinio vittima di tale ambiente è Jacopo Jacopo del Cassero che viene raggiunto lì dai sicari proprio a causa di un suo erroneo calcolo di fuga la scena evidenzia ancora una volta la conoscenza da parte di Dante della peculiarità naturalistica di tale ambiente che riesce a sintetizzare con poche parole ma in Dante abbiamo anche più occorrenze dell'essema canna e per estensione dei termini greco calamus e latino arundo perché anche nelle opere latine ricorre questo termine ad esse si può inserire anche siringa la canna che possiamo scientificamente identificare con la canna comune arundo donax assume nelle opere volgari sia nelle opere volgari che in quelle latine significati diversi in contesti diversi come canna in senso botanico cioè la canna vera e propria arundo con i termini arundo e canna nelle egloche ma in senso metaforico come canna della gola cioè quindi e sono le gole di Cerbero o la gola di Piedda Medicina nella commedia questo oppure nelle opere latine come strumento musicale come zampogna come flauto e anche come stilo per scrivere quindi il termine canna viene utilizzato o i suoi derivati più volte non sfuggono però al poeta neppure le inflessioni mitiche legate alla canna con un richiamo evidente al re Mida del quale le canne rivelano le orecchie asinine come parallelamente le cannucce tradiscono Jacopo un'altra pianta particolare è il lino che ci dà molto da riflettere il lino è un caso a parte e bisogna riferirsi al linum usitatissimum di linneo collegabili a tale lessema abbiamo diverse occorrenze anche se il termine ricorre una sola volta in senso botanico diverse volte come nome oltre al nome infatti delle tre parche atropo l'achesi e cloto è collegabile anche il termine maciulla che ricorre appunto in Dante che è un attrezzo che serviva specificatamente per la lavorazione degli steli di lino l'unica occorrenza però della pianta quale materiale che viene filato dall'achesi ce l'abbiamo nel venticinquesimo canto del purgatorio nel quale passo viene spiegata la separazione dell'anima dal corpo che avviene proprio quando la che esisse non ha più dell'ino e allora l'anima solvesi dalla carne e in virtute ne porta seco e l'umano e il divino tralasciando il significato allegorico e teologico di cui molti critici e commentatori antichi e moderni hanno discusso vorrei porre invece l'attenzione proprio sull'aspetto botanico difatti nuova è l'espressione che la parca fili proprio del lino una pianta particolare quando invece sempre nel mondo classico la parca viene presentata a filare un generico stamen un generico filo che al momento opportuno può essere tagliato ci si pone quindi la domanda perché Dante utilizza ad esempio proprio lino per la filatura della parca e non ad esempio la lana o la canapa le ragioni possono essere due innanzitutto in riferimento all'economia locale di fatti il crescenzi il decrescenzi che scrive agli inizi del treccento spesso ne cita la stoffa e ne indica le modalità della coltivazione della semina proprio nella pianura padana nelle zone di Bologna dove lui appunto viveva in secondo luogo l'espressione dantesca suggerisce una possibile fonda letteraria infatti il primo a dire e mi sembra l'unico e nelle traduzioni scompare ecco questo termine a dire che l'agesi filillino è proprio omero anche se di solito nelle traduzioni soprattutto quelle latine anche quelle italiane il nome della pianta è sostituito da stamen da filo infatti nell'Iliade si legge traduco ovviamente così la moira crudele per lui per Ettore si affaticò con il lino dell'esistenza traduco letteralmente Dante e penese lino lui utilizza cioè a filare lo stame della vita ma il termine ricorre anche nell'Odissea dove letteralmente si legge che le filatrici tremente scialacquavano con il lino dell'esistenza cioè filavano il destino degli uomini ora se l'espressione non è mutuata da alcun autore latino perché non figura in nessuna parte che le parche filassero il lino Dante o avrà avuto una traduzione latina in cui l'espressione greca era tradotta la lettera oppure cosa molto più probabile aveva intrapreso lo studio della lingua greca proprio in questo periodo cosa che penso sia appunto più probabile tra le altre piante ecco che avevano bisogno di acqua e ne ho bisogno di acqua abbiamo il papiro e l'edera simile in un certo senso per diciamo per ambiente è simile al giungo il papiro l'edera invece è un pochettino diversa però edera e papiro ricorrono in una stessa scena insieme al pepe nero in una stessa scena che è la trasformazione la metamorfosi di Agnello Brunelleschi siamo nel venticinquesimo canto dell'inferno qui il papiro viene utilizzato come qualcosa che brucia e ci sono diverse interpretazioni ecco su questo papiro che alcuni pensano possa essere carta io non penso che sia carta non penso neanche che sia papiro ma seguendo le descrizioni di Pietro dei Crescenzi penso che bisogna individuare invece il giunco perché il giunco perché proprio nella pianura padana il giunco veniva chiamato papiro e veniva utilizzato come stoppino per le lucerne ora Dante se voleva chiaramente essere vicino al suo lettore doveva fare un esempio che il lettore poteva comprendere non era facile che il lettore vedesse un foglio di carta bruciare era più facile che vedeva lo stoppino bruciare nella raccaprisciante scena di metamorfosi dal punto di vista botanico appare oltre al pepe nero piper nigrum per indicare il colore di un serpettello che si era lanciato contro l'ombilico di cianfa e puccio sciancato che erano i due amici di agnello brunelleschi c'è anche l'edera per esemplificare proprio il processo di metamorfosi fusione tra il serpente e l'agnello dice Dante ella era abbarbicata mai non fue ad albersi come l'orribil fiera per l'altrui membra avviticchiò le sue in quest'ultimo paragone ancora una volta Dante nel processo di metamorfosi appare attento osservatore non solo di processi naturalistici ma pure oculato descrittore degli eventi infatti se ne può denutare uno chiaro processo parallelo tra l'evoluzione naturalistica dell'edera e il processo di metamorfosi tra il serpente e l'agnello la prima azione infatti che il serpente compie è quella di lanciarsi davanti alla sua vittima e poi appigliarsi ad essa ed è quando naturalisticamente fa anche l'edera infatti appena nasce ed è in germoglio andando alla ricerca della luce si attacca al tronco di un albero e ne percorre un buon tratto giungendo in un primo tempo fino a metà del fusto senza molte diramazioni la seconda azione che il draco serpente compie è quella di avvinghiare la pancia con le zambe di mezzo in realtà l'edera raggiunta all'incirca la metà del tronco spesso comincia a ramificarsi ed abbraccia il tronco dell'albero avvolgendolo con i suoi striscianti rami e invilzandogli le sue piccole radici come afferma proprio Alberto Magno la terza azione che Dante descrive è quella delle zambe anteriori del drago che comincia ad avvolgere le braccia in realtà l'edera una volta barbicatosi al tronco prosegue per i rami le braccia dell'albero e continua il suo strisciare la quarta azione del drago è quella di addendare entrambe le guange del dannato significa che in realtà buona parte del corpo è coperto l'edera segue un procedimento analogo continua per la cima dell'albero la quinta azione è quella che il drago ricopre tutta la parte posteriore del corpo del dannato mettendo la coda tra le gambe e giungendo fino alla schiena l'unione ormai è completa e come dice proprio Alberto Magno per l'edera le due piante così unite sembravano una sola e come i due che l'essere umano e il mosso si uniscono si fondono e diventano una sola cosa ecco io a questo punto volevo far vedere magari interrompendo un po' il discorso vediamo se possiamo condividere ecco le piante di cui noi abbiamo parlato ecco penso che già li vediamo ecco così vediamo ecco qui abbiamo portato le immagini che si riferiscono al tredicesimo canto dell'inferno canto di Piedella Vigna ecco nella prima scena nella prima immagine abbiamo il triticumusperta che è il grano praticamente un tipo di grano poi abbiamo la verbeno officinalis che è arbustiva che è arbustiva ecco non so se si sente bene ecco poi abbiamo il terzo stadio che è l'albero ecco il grano produce queste spighe questa è una pianta di verbeno officinalis invece questa è la festuca ecco lo stelo della festuca che si ingloba nel vetro nel ghiaccio ecco vediamo l'olio ecco Dande distingue abbiamo detto due tipologie di l'olio ecco questo è l'olium temulentum che è nocivo e difatti non è buono neanche per pascolo sembra uguale all'olium perenne però questo gli animali non lo mangiano neppure non lo toccano mentre l'olium perenne è un'erba da pascolo quindi Dande distingue ma le distingue perché le sue fondi sia Plinio sia Alberto Magno sia De Crescenzi ne fanno una distinzione ben precisa e specifica ecco poi abbiamo la gremigna ecco quando lui paragona Bernardino da Fosco e Fabio Lambertazzi alla gremigna all'umiltà della gremigna ecco questa è il cinodondactilon è un tipo di gremigna che cresce praticamente al suolo e l'altezza massima non raggiunge i 30 centimetri quindi si espande e nota appunto per la sua umiltà invece questo di qua è l'elimis repens questa praticamente qui abbiamo soltanto un cespuglio ma è molto fitta e copre completamente il terreno per un'altezza fino a un metro e venti circa quindi è molto più adatta a coprire anche diciamo un suolo abbastanza ampio ecco questa invece è la Poa Pratensis questa è una gremigna da pascolo ecco i buoi delle egroche che pascolano gramina ecco per lenta gramina ecco sono queste potrebbe essere questa ecco la gremigna ecco questa invece è l'ortica dioica quella pungente ecco l'ortica come dice Alberto Magno che non punge è simile a questa guardandola da lontano non si distingue assolutamente però poi toccandola ecco si distingue si vede che quella non punge e questa invece punge ecco invece il giunco ecco perché io penso che il giunco dantesco deve fare riferimento per forza alla tifa la tifolia che cresce lungo gli stagni e ha queste steli che raggiungono i due metri circa non hanno nodo dalla base alla parte più alta invece l'altro tipo di giunco quello più comune che è il giunco sefusus ecco questo di qua ha un nodo e quindi non poteva ricorrere nella tipologia dantesca di poter utilizzare perché doveva essere senza nodo ecco qui abbiamo invece la cannuccia da palude ecco questa è la cannuccia da palude vedete l'ambiente della cannuccia da palude è proprio questo è intricato anzi qui abbiamo la parte dello stagno dalla parte dietro c'è una parte fangosa ed è difficile da penetrare è molto pericoloso invece questa è la canna comune la rundodonax che vediamo ecco molto comunemente ecco questo è il lino che veniva coltivato nel medioevo come abbiamo visto e che Omero utilizza come materiale che le parche filano ecco questo qua invece è il papiro il papiro che però io sono confinto che stando alle fondi che lui probabilmente conosceva ecco Dante di riferimento del papiro di Dante è più al giunco che al papiro ecco poi abbiamo l'edera ecco l'edera praticamente ha questo comportamento cerca di andare verso l'alto qui siamo a metà fusto poi comincia a circondare ecco alla fine ecco abbiamo qui abbiamo un albero che è quasi coperto dall'edera ma ancora le cime ecco non sono coperte sembra un mostro un essere mostruoso ecco questo di qua ecco poi vedremo altre piante penso che ancora forse abbiamo un altro poco di tempo possiamo dilungarci un altro dieci minuti ecco il sicomoro Dante ad un certo momento parla di bastoni ecco qui siamo nel fiore accenna al sicomoro il subordonio non fu di secomo di secomoro ma di gran falsità ben ripulita ecco si tratta di un frate false impiante che doveva intraprendere un viaggio e si era fornito non di un bastone di sicomoro o sicomoro ma si era già unito di un bastone di falsità ecco ma Dante per sicomoro che cosa intende ecco noi per sicomoro abbiamo tre piante completamente diverse che appartengono a specie completamente diverse ma per poter essere un bastone deve avere le caratteristiche di poter fare un bastone questo è il ficus sicomorus cioè il ficus il sicomoro orientale quello di cui ci parla la Bibbia è quello egiziano questo è un albero che raggiunge i venti metri di altezza e non è adatto a fare un bastone qui sotto abbiamo il saicamor il platanus occidentalis che il sicomoro diciamo come viene chiamato dagli inglesi già nel medioevo l'invio ha chiamato così ma che è una fagacea quindi non c'entra propriamente con quella precedente ma ancora una volta per farci comprendere Dante e quindi per poter fare un bastone di sicomoro dobbiamo ricorrere a Pietro De Crescenzi che insisto ancora una volta Dante non cita mai però effettivamente sempre che lo conoscesse lo potevo conoscere per tanti motivi non solo perché era suo coetaneo è morto nel 1320 l'opera del De Crescenzi è stata pubblicata nel 1304 è stata scritta in latino e soprattutto ha avuto una tale diffusione che nello stesso 300 è stata volgarizzata e l'Accademia della Crusca l'ha utilizzata per molti le semi nel suo vocabolario e che cosa ci dice Pietro De Crescenzi che il sicomoro non è una pianta chissà che cosa è una pianta che cresce ai piedi delle Alpi e che in pratica è il pistacchio selvatico la stafilia pinnata ovviamente lui non ci dice il nome scientifico è il nome che noi riusciamo a dedurre ecco se riuscivo a incrantire leggermente un poco però forse non mi conviene toccare troppo il file perché altrimenti poi non riesco a trovarlo a riportarlo ecco questo è adatto a fare bastoni infatti lo dice lo stesso De Crescenzi il quale dice che questo è un materiale adatto a fare maniche di cortelli e quindi a fare anche dei bastoni difatti questo cespuglio il diciamo il fusto raggiunge un diametro di 3 4 5 centimetri al massimo quindi è una pianta adatta a fare dei bastoni io ecco ora interrompiamo la condivisione vediamo se ci riusciamo ecco non so se cosa possiamo come ritornare cosa dobbiamo fare è tutto regolare ha già interrotto la condivisione posso continuare a parlare ecco perfetto sì allora vediamo un po' invece la caratteristica della selva dantesca ecco come dicevo prima la selva dantesca è argomento di un prossimo libro che probabilmente pubblicherò l'anno prossimo ecco e qui noi abbiamo un prato abbiamo degli alberi abbiamo un insieme di piante ecco che Dante cita ma Dante effettivamente di cita sparse qua e là ma l'idea che lui se ne fa ce la suggerisce nelle due occasioni che abbiamo citato in precedenza i boschi che si possono tenere in considerazione e il bosco di pini di Ravenna la pineta di Ravenna dove secondo quando ci riferisce è benvenuto da Imola stette molto tempo tra la solitudine del bosco dei pini e l'altro luogo sono quelli selvaggi della posti tra Cecina e Corneto in realtà a mio avviso la Val Cecina che è una zona abbastanza inferbia impervia e abbastanza boscosa ma che tipo di alberi noi abbiamo qual è la caratteristica della selva dantesca la selva dantesca è selvaggia aspra forte è selvaggia in quanto è allo stato naturale è aspra perché è intricata e impenetrabile è forte perché è quasi una fortezza inespugnabile ovviamente io parlo dal punto di vista naturalistico tralasciando i vari significati allegorici che vengono dati alla foresta e perché lui nella descrizione delle foreste a mio avviso tiene presente in base alla descrizione delle foreste reali veri e proprie ecco è la forza della foresta vergine questo tipo di bosco che lui ci descrive soprattutto nella introduzione della commedia nel primo canto della commedia ma la selva può essere anche trista come la selva dei suicidi e la selva può anche essere antica cioè costituita da vecchi alberi da annose querce e così via ma per conoscere dal punto di vista botanico la selva dantesca e conoscere le specie albore che magari lui si può immaginare in questa sua selva importante è un passo illuminante della seconda egloca Dante scrisse due egloche benché si tratti di un ambiente pastorale nel quale Titiro che immaginiamo all'ombra di una quercia Pasquale il suo grece che cosa dice ecco come descrive Dante questa sua selva perciò Titiro e Alfesibeo commiserando il bestiame entrambi si rifugiarono in una selva una selva di frassini fra mista attigli e platani e qui mentre le pecore mescolate alle caprette giacciono sull'erba del bosco e aspirano l'aria con le narici Titiro protetto dalle foglie di un acero riposava stanco e gravato dagli anni su fiori dal suo porifero odore ecco se questo è un bosco una selva che ci descrive Dante stesso un modello noi ce lo possiamo avere nelle metamorfosi di Ovidio nel decimo libro dove descrive tutta una serie di alberi ecco il passo è importante magari ne leggo qualche tratto ecco c'era un colle e sopra il colle un pianoro molto uniforme che un prato di gramigne rendeva verde qui non mancava l'albero di Caonia nel bosco delle liadi non l'ischio dalle fronti svettanti nei morbidi tigli o il faggio o il vergine alloro il fragile nocciolo il frassino atto a far lance la bete senza nodi il leccio piegato dalle ghiande il platano allegro l'acero il salice abitatore dei fiumi il palustrelodo e così via ecco praticamente abbiamo poi ci seguono numerose altre piante quasi tutte queste piante sono vengono citate da Dante e quindi possiamo immaginare ecco questo passo come un'ideale foresta dantesca passo che poi effettivamente viene ripresa anche da Stazio nelle Trebaide con quasi tutti i nomi di queste piante che ricorrono qui e che richiama ad un altro passo di Virgilio del terzo libro delle Georgiche ecco ma se noi vogliamo vedere alcune piante particolari ecco possiamo vedere l'abete e il pino l'abete e il pino vediamo magari visto che il tempo passa andiamo a vedere direttamente le immagini così ci vediamo se ci riusciamo ecco ecco il pino l'abete dante nel ventiduesimo canto del purgatorio ecco paragona in pratica abbiamo questa scena abbiamo i tre pellegrini cioè dante Virgilio e Stazio che entrano all'inizio della sesta cornice salgono una scala e incontrano un albero particolare un albero di cui dante non ci dice il nome ci dice semplicemente che come un abete però al contrario che mentre l'abete in alto in basso e l'algo e poi va a restringere cioè in alto con la punta più in alto più stretta a digradare l'albero che non ha nome e al contrario cioè in pratica sotto è stretto e sopra va ad allargare però pur non dicendo dante il nome di quest'albero leggendo Alberto Magno si capisce chiaramente che quest'albero senza nome che è simile a quello che poi incontriamo alla fine della sesta cornice che è un altro albero che ha caratteristiche simili in pratica lo possiamo identificare con un pino con un pino domestico e per quale motivo perché Alberto Magno ci dice che il pino ha proprio questa caratteristica che sopra si allarga e sotto è ristretto e quindi già abbiamo poi ci dice che il pino fa dei pomi molto belli dolci e odorosi che sono tre termini che compaiono in Dante di fatti Dante che cosa dice trovammo un albero in mezza strada con pomi a odorare soavi e buoni e come abedi in alto si digrada di ramo in ramo così quello ingiuso credio perché persona su non vada cioè sotto è più stretto e sopra è più largo ma ci sono tanti di quei lessemi che nella lettura di Alberto Magno del De Vegetabilibus nel sesto libro nella descrizione si tratta di una pagina e mezza ci sono tante interrelazioni tanti una contestualizzazione molto precisa quella che salta anche all'occhio leggendo qui Dante ecco per noi diventa diciamo un po' strano perché giuso abbiamo un giuso qui poi sotto abbiamo un suso ecco giuso e suso che fanno rima qui in questo passo Dante dice così quello in giuso mentre rima suso c'è l'acqua che scorre suso nella parte superiore dell'albero giuso e suso Dante non poteva fare a meno di inserirlo in questo passo proprio perché Alberto Magno leggendo Alberto Magno in una pagina e mezza giuso lo utilizza ben 12 volte mentre suso lo utilizza ben 6 volte quindi questo questo andare su e giù da una parte e dall'altra per Dante ci dimostra che lui ha letto esattamente il brano ma non solo questo albero che all'inizio della sesta cornice è molto simile a quello che noi vediamo alla fine della sesta cornice e questi due alberi lo dice Dante stesso provengono da quello del paradiso terrestre anche quello del paradiso terrestre ha una forma simile a quando ci descrive al pino domestico che ci descrive Alberto Magno cioè ha una chioma da allargare e nella parte più bassa e più stecca questa chioma è alta quindi ci sono queste ecco questo esempio è un pino domestico in cui i rami pendono verso giù i frutti si possono quasi raccogliere ma è difficile raccogliere perché effettivamente il pino domestico raggiunge altezze anche di 20 metri 30 metri quindi è una pianta molto alta un'altra pianta che Dante utilizza e utilizza molte volte sono le fagaci alcune piante di fagaci la quercia lui lo utilizza un paio di volte tre volte il cerro e poi il leccio il cerro quando Dante fa dei paragoni fa dei confronti in questo caso lui si paragona ad un cerro dice con menti e resistenza si di barba robusto cerro ovvero al nostro vento ovvero a quel della terra di arba chi non le vai al suo comando il mento siamo nel trentunesimo canto del purgatorio si trova davanti a Beatrice Beatrice gli dice di guardarlo in faccia e lui invece non lo vuole guardare non lo vuole guardare perché ha timore perché si vergogna perché sa di avere sbagliato e quindi e lui tiene continua a tenere questa testa in basso proprio inamovibile proprio come un cerro ma perché paragona se stesso al cerro ad esempio e non alla quercia perché la caratteristica del cerro è proprio l'imponenza la grossezza e la resistenza invece la quercia non avrebbe dato la stessa idea della diciamo del cerro poi abbiamo il leccio il leccio invece ricorre nel fiore ma il leccio che assomiglia alla quercia effettivamente non perde le foglie quindi è sempre verde eccoci soffermiamo invece su un altro brano su un altro brano che tra brutti porci più degni di galle che d'altro cibo fatto in uman uso dirizza prima il suo povero galle fa riferimento ai casentini ai guidi di porciano conte di porciano e augura ai casentini di mangiare delle galle cosa sono le galle ecco le galle di solito i critici interpretano galle per ghiante ma effettivamente le ghiante le galle scientificamente sono queste cose qua ecco sono degli insetti che crescono sulla quercia ecco questa è una tipologia di galla questa è un'altra tipologia di galla ma ce ne sono di diverse tipologie ne ho portate soltanto due ecco quindi lui augura ai suoi nemici non di mangiare ghiante ma di mangiare delle galle proprio questo perché mangiare ghiante i conti guida già erano conti di porciano quindi erano porci come commenta alcuni come commentano alcuni come fa un commentatore anonimo e quindi mangiare ghiante sarebbe stato addirittura un cibo normale non solo ma per Dante le ghiante non sono un cibo spreggevole è un cibo il cibo dell'età dell'oro che gli uomini hanno mangiato nell'età dell'oro è un cibo metaforico che mangiano la gente che magari non amano molto la conoscenza in senso spreggevole però effettivamente noi abbiamo anche una fonte letteraria ben precisa le galle ce lo specifica Plinio e Dante conosce Plinio ce lo specifica Alberto Magno e specifica anche che è un insetto che praticamente mangia la parte tenera della quercia poi si ingloba all'interno e crea queste escrescenze ce lo descrive anche Pietro dei Crescenzi effettivamente cosa sono queste galle e quindi Dante conoscendo questi tre autori ci viene da pensare appunto alla galla come diciamo queste escrese e non come ghianta allora l'interpretazione di ghianta da che cosa deriva effettivamente perché bisogna considerare tutte le fonti Isidoro di Siviglia ma è l'unico che definisce le ghiante galle dice che il frutto della quercia si chiama galla ma è l'unico a definire le querce come galle ma Dante non conosce soltanto questo beh effettivamente io se fossi stato al posto di Dante onestamente non avrei augurato di mangiare delle ghiante se per me erano infise ma avrei augurato di mangiare delle galle c'è un qualcosa di più spreggevole ecco io a questo punto penso di concludere con questo diciamo con questa mia breve riflessione ecco che vediamo se ecco la mia riflessione è proprio questo ecco che in questo lungo percorso attraverso la selva dantesca ecco le piante citate da Dante attraverso le loro qualità botaniche e il simbolismo che viene loro affidato ci siamo fatti l'idea che il suo approccio con la natura sempre puntuale e preciso mostra un animo sensibile e attento verso quell'ambiente naturale intrecciato di piante erbace alberi da frutta alberi da bosco fiori una sensibilità che proviene non solo da una conoscenza teorica basata sulle fondi scientifiche e letterarie come si è visto ma anche da quell'osservazione diretta di quel grande libro che è la natura l'uomo Dante si accosta adesso con riverenza e rispetto con meraviglia ed entusiasmo con amore francescano e attento spirito di osservazione delle chiave di lettura anche a noi moderni quindi dopo 700 anni può offrire momenti di riflessione e di attenzione verso quella natura che a volte ci appare lontana incomprensibile e che a volte bistrattiamo ma forse perché la conosciamo poco ecco questa è la mia riflessione che io posso con cui io posso concludere anche se io non riesco più a vedere nessuno però ecco non so qui purtroppo non è che me la cavi molto bene ecco forse ora ecco ora forse ci vediamo riesco a vedere il diciamo lo schermo io volevo ringraziare tutti voi forse sono stato troppo puntiglioso purtroppo soffro un po' di amnesia tante volte e questo mi crea qualche problema di fatto ho cercato di tenere avanti anche qualche appunto ma penso di essere stato chiaro forse ho dato una visione un pochettino diversa dell'idea botanica che ci si è fatta di Dante di solito si è visto il suo ambiente naturale soltanto dal punto di vista allegorico ma io credo che bisogna vederlo anche dal punto di vista naturalistico quello che io ho notato da parecchio tempo leggendo Dante già fin dagli anni universitari è la sua attenzione ai confronti della natura ed io mi viene in mente un'altra scena particolare poi concludo quello dei fiori dei fioretti che inchinano il capo alla brina la mattina siamo nel secondo canto dell'inferno sì è vero questa scena è una scena ripresa da Virgilio però Dante gli dà quel senso della visione diretta della cosa perché ci aggiunge alcune di quelle parole che ci fanno capire che Dante effettivamente ha notato tante volte quella scena ecco io vi ringrazio per questo e mi scuso se magari sono stato distratto qualche momento grazie grazie a lei e non ha bisogno di scusarsi assolutamente perché ha fatto ha preso una conferenza esemplare direi per rigore filologico e per acume critico e quindi non c'è non c'è motivo perché lei deve scusarsi assolutamente molto interessante sia per il modo in cui è stata condotta sia anche per i contenuti presentati ecco qualcuno mi chiedeva il titolo del volume di Angelo Manitta è la botanica di Dante piante erbacee nella commedia pubblicato dal convivio editore Castiglione di Sicilia provincia di Catania 2020 ecco sì è proprio questo il titolo se qualcuno fosse interessato appunto può leggere questo bel volume molto ampio e ricco di particolari io mi vorrei fare una considerazione molto breve poi intanto che i partecipanti pensano a qualche a loro volta a qualche quesito osservazione e mi pare che guardando ai lessemi che Dante desume da Alberto Magno Pietro delle Crescenzi ma anche da altri autori più antichi diciamo che si ha l'impressione che tenendo conto anche della vita che Dante ha condotto la vita caratterizzata dall'urbanesimo Dante era cittadino quindi almeno finché erano andati in esilio probabilmente a partire dal momento in cui è stato esiliato forse ha avuto un contatto diretto con la natura diciamo più vivo più ma mi chiedo allora quale sia se sia più importante la fonte letteraria che non l'esperienza diretta per quanto riguarda la conoscenza delle piante che lui cita nella nella sua commedia e con una capacità con una resa poetica e un'efficacia straordinaria come nell'episodio che lei ha ricordato di Jacopo del Cassero ad esempio e quindi insomma ecco questa era un po' la mia considerazione che c'è questa diciamo rilevanza delle conoscenze che derivano dai testi antichi insomma dell'epoca classica e poi di quel bolognese contemporaneo che è Pietro De Crescenzi che lei ha citato prima insomma sì effettivamente allora per dare la mia opinione l'idea che me ne sono fatto io attraverso le fonti Dante conosce molto bene le sue fonti conosce bene non in senso completo ecco perché lui la naturale si storia o il De Vegetabilibus non li legge al completo ma ne legge in base a quello che gli è possibile leggere data la difficoltà anche del libro che si poteva che non era facile reperire un libro ecco ai suoi tempi però lui dà l'impressione che alcuni passi li ha letti realmente abbiamo visto la contestualizzazione ad esempio per la però c'è anche l'esperienza diretta perché Dante pur essendo cittadino da quello che noi notiamo era un attento osservatore e da che cosa lo si nota questo lo si nota da quegli aggettivi o da quell'azione che viene accostata ad esempio il fioretto con il capo chino con la brina e che un'aggiunta rispetto già a Virgilio gelata che poi però la brina si sconcela e la pianta segnalza nuovamente questa è frutto di un'osservazione diretta perché Virgilio questo non glielo dice oppure ad esempio invece forse puramente letteraria invece la riflessione che lui fa quando nel tredicesimo canto dell'inferno di Pier delle Vigne quando strappa il ramo e esce il sangue e l'acqua e lui paragona questo sangue e acqua che esce come uno stizio che è messo nel fuoco che siccome è umido dall'altra parte esce la schiuma ed esce quel vapore acqueo ma effettivamente questo esempio lui lo rielabora da Alberto Magno nel De Vegetabilibus Alberto Magno spiega come durante la primavera attraverso i contotti delle piante la linfa esce fuori e creano proprio quella schiuma che fanno vedere la vivacità della pianta quindi già Dande ha un supporto letterario alle spalle quindi quel passo dimostra di averlo letto però dall'altra parte ha l'osservazione diretta perché probabilmente avrà anche visto direttamente certo bene ecco e vedo che tra i partecipanti c'è il professor Parolini il quale aveva chiesto a qualche interlocutore precedente alcuni lumi sulla presenza in Dante di passi che in qualche modo dimostrino la sua se non appartenenza comunque la sua simpatia per il catarismo insomma Dante Cataro come nel saggio della sua desina e lei e lei ha appunto in questo libro e anche in questa conferenza ha dato una risposta molto precisa citando appunto il passo in cui in cui si possono vedere diciamo si possono si può interpretare come il rito del consolamentum ecco quindi se il professor Parolini vuole vuole intervenire questo è un tema molto interessante anche perché una volta ho chiesto al professor grazie al presidente al professor Francesco Zambon se a suo avviso si poteva parlare di passi diciamo che dimostrano l'inclinazione di Dante per i catari per il catarismo e lui rispose recisamente no assolutamente quindi mi colpì questa questa diciamo risposta così netta ecco invece ma è bene che ci siano diciamo visioni discordanti come come è logico che sia in certi casi prego prego Massimo scusami sì appunto è quanto appena detto appunto lei ha ripetuto anche la luce del rito una sera postulmanita appunto che l'ipotesi non è campata in aria sostanzialmente come alcuni sembrano asserire quindi ci sono elementi che andrebbero non a confutare ma appunto al contrario a dimostrare un eventuale perlomeno simpatia ecco per non adesione ovviamente lei in base ai suoi studi ha una visione affermativa quindi in questo senso dubbia una via di mezzo nessuna via di mezzo allora io sono perfettamente convinto che Dante era simpatizzante per il catarismo perché non soltanto per il brano che io ho citato poco fa nella diciamo cerimonia del giunco che effettivamente ho confrontato quanto diceva un cataro nell'atto dell'adesione al catarismo e quando dice Dante Dante lo dice in seconda persona il cataro lo diceva in prima persona ma non soltanto questo ma il discorso è forse più ammonde cioè l'idea che ci dà Dante di interpretazione della commedia e in che cosa consiste quest'idea Dante sapeva che poteva essere accusato di eresia e questo bisognava un po' cercare di far vedere la commedia in una maniera più ortodossa e allora si inventa o meglio non si infenda riprende da Uco di San Vittore i quattro sensi della i quattro sensi di interpretazione della scrittura il significato allegorico il significato letterale anagogico e morale questo noi ce l'abbiamo nel cui vediamo ecco qual è il passaggio e come Dante anche cambia poi con il tempo questo lui lo dice già nel convivio all'inizio però poi capisce che questa cosa non funziona molto bene come dicevo la volta scorsa il professor Casadei ecco la tredicesima epistola probabilmente non è tutta dantesca lui dice che buona parte non è dantesca effettivamente sono d'accordo con lui però il passo in cui parla degli quattro sensi della scrittura secondo me può essere autentico perché può essere autentico perché un falsario avrebbe detto che i quattro sensi sarebbero stato quattro sensi della scrittura invece lì Dante li riduce in pratica a due al senso letterale al senso allegorico poi gli altri sono sive sive ecco quindi non sono più et et ma sono sive sive quindi signora o questo o quello o questo può essere questo può essere quell'altro quindi Dante si era posto questo problema allora ha utilizzato questo sistema di interpretazione allegorico il problema dell'eresia effettivamente esisteva ma di fatti più volte il figlio Pietro dice che questa espressione potrebbe essere diciamo interpretato come eresia se noi non la interpretiamo in senso allegorico quindi qui il poeta parla soltanto di allegoria cioè il figlio già difende il padre questo ce l'abbiamo in più passi ecco un passo particolare è quello di Catone ecco tanto per fare un esempio certo ecco l'altra domanda più principio appunto al suo studio sulle piante ne parlavamo anche un paio di volte fa Barbara Reynolds appunto negli anni 90 pubblicò quel libro quello studio sull'uso della farmacopea delle piante soprattutto con riferimento al paradiso piante che avrebbero potuto avere una funzione anche stupefacente sostanzialmente ecco fu ovviamente molto discusso anche perché lei era una cattedratica un'accademica insomma importante il più importante d'antista d'Inghilterra anche traduttrice ma alcuni si espressero anche professor Leoni ad esempio tutto sommato anche in modo possibilista lei ecco nello specifico proprio avendo indagato le singole piante citate da Dante lungo la commedia ha individuato rispetto a questo testo della Reynolds testi che gli cita appunto che potrebbero avere tale funzione no questo non l'ho notato non sono riuscito a notarlo invece quello che ho notato alcuni aspetti terapeutici questo sì ecco che lui conosce gli aspetti terapeutici delle piante terapeutici delle piante questo sì ecco questo l'ho notato ecco ma per altri aspetti mi sembra strano ecco perché Dante non è un visionario perché forse secondo me se si vuole interpretare Dante come visionario in quel caso si possono interpretare le erbe come l'utilizzo di alcuni particolari erbe ma Dante non è un visionario Dante è un poeta e questo lo si può dimostrare già a partire dalla per lui Virgilio è la guida ma prima di guida è un poeta e lo e lo chiama poeta molte volte nel corso della commedia è come è come nel vedere la visione di Dante come una visione mistica sì è una visione mistica una visione si può interpretare come si vuole ma è poetica fondamentalmente perché lui è un poeta non è un mistico grazie bene ecco se qualcuno altro vuole intervenire molto volentieri il professor Manitta è qua è disponibile per rispondere a qualsiasi quesito riguardo all'argomento trattato nella conferenza buonasera vorrei porgere una domanda al professor Manitta sì mi dica beh intanto grazie della della lezione davvero insomma notevole e interessantissima ci porta in un mondo ecco che così insomma magari conosciamo parallelamente però vederlo inserito così tra le parole di Dante ce lo fa apprezzare ancora di più parlo di quello del mondo della natura e del naturalismo ecco volevo chiederle da ricordi che ho io Dante credo fosse scritto alla corporazione all'ordine degli speciali da come conosciamo noi gli speciali a partire dal cinquecento soprattutto fine quattrocento dal rinascimento erano erbolati andavano a raccogliere le erbe e le utilizzavano poi evidentemente per usi medicali in farmacia eccetera eccetera ecco per cui se al tempo di Dante la corporazione degli speciali in qualche modo corrispondeva a quella che conosciamo qualche secolo dopo per cui questa conoscenza sua di piante ed erbe era dovuta anche casomai a studi suoi insomma ecco ad attività anche sua insomma l'iscrizione alla corporazione ecco grazie allora noi non possiamo con certezza dire se l'essere appartenuto alla agli speciali ecco abbia influito qualche cosa per la sua conoscenza delle piante perché lui si è iscritto in quella corporazione soltanto perché doveva essere iscritto in una corporazione e quella più vicina a lui perché lui già ne aveva certe conoscenze teoriche era quella degli speciali ma e quindi questo è ininfluente per la conoscenza diciamo botanica di Dante invece la conoscenza botanica di Dante è determinata intanto dalla conoscenza culturale perché lui parte dalla conoscenza teorica di Plinio di Alberto Magno e poi dall'attenzione nei confronti delle piante che sono sotto la sua visione almeno da quello che noi possiamo vedere nelle descrizioni prendiamo ad esempio nel paradiso terrestre ecco nel paradiso terrestre quando lui descrive gli alberi o descrive i prati sì è vero c'è un aspetto generico che è quello diciamo letterario come abbiamo visto anche in Ovidio o vediamo in Virgilio però c'è sempre quel particolare quella particolare riflessione che è la caratteristica dell'erbo la verdezza o il fiore intriso nel mezzo o la brina alcune particolari che ci fanno vedere un'attenzione sua personale nei confronti della natura almeno questa è l'idea che me ne sono fatto io poi chiaramente ogni lettore si fa la sua idea però io di solito mi faccio un'idea se ho dei riscontri ben precisi sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista della natura ecco ovviamente essendo io anche abbastanza vicino alla natura e osservando essendo pure io un attento osservatore di eventi naturali ecco questo mi porta a rendermi vicino a Dante come ad esempio nell'interpretazione dei canti degli uccelli del paradiso terrestre io ho letto diverse interpretazioni critiche di questi uccelli che non si sa chi cantono che cosa non cantano come cantano e perché proprio nelle prime ore del giorno se un critico è vissuto sempre in città e non è mai vissuto in campagna non riesce a capire quello che dice Dante in quel passo Dante in quel passo è di una naturalezza totale perché gli uccelli la mattina le prime ore del giorno e le prime due ore ma cantano soprattutto in prima era una maniera pazzesca cioè che svegliano le persone perché è un canto quasi di gioia al nuovo giorno che nasce e quella è l'espressione che volevo dire Dante sì allora ci sono altri che hanno piacere di intervenire Loredana in realtà volevo solo ringraziare perché il professore ha già risposto nella sua chiusa alla domanda che io mi ero segnata cioè se l'amore di Dante per la natura cioè fosse amore o fosse solo metafora no pensavo all'uso delle piante la differenza tra inferno o almeno quella che io ho studiato tra inferno purgatorio e paradiso per esempio questi alberi ritti invece nel paradiso e la selva oscura oppure i fiori che alzano la testa dal gelo nell'inferno oppure le foglie d'autunno però lei mi ha già risposto nella sua chiusura quindi complimenti e grazie io volevo volevo dirle proprio questo insistere a quello che dice lei cioè che effettivamente per capire Dante gli aspetti naturalistici di Dante bisogna vivere la natura se io ho scelto tra le tante cose che avrei potuto scegliere su Dante questo argomento l'ho scelto proprio per questo motivo perché sono vicino alla natura e ho capito che per capire Dante da questo punto di vista bisogna innanzitutto essere vicini alla natura professore scusi volevo ringraziarla per questa bella spiegazione che ha dato mi sente la sento allora ringraziarla molto perché io amo molto la natura e la vivo anche attraverso i colli Uganei ma ho ammirato come lei con il suo studio ha saputo farci capire che Dante ha reso tutto questo poesia ecco questo per me è importante mi sente sì sì la sento certo ecco questa è la bellezza di questa sua conferenza perché si è proprio dimostrato come questo amore per la natura e questa però anche capacità di capire di ogni albero la natura e le caratteristiche però si trasformi poi in poesia ecco questa grandezza ed è la grandezza di Dante ed è anche la grandezza della sua ricerca del suo studio sulla botanica verso Dante grazie infinite molte grazie 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 a lei ecco effettivamente Dante trasforma tutto in poesia ecco la poesia è importante perché il poeta non che io sia all'altezza di Dante ho scritto qualche poesia come dicevo appunto all'inizio il professore Tugnoli che è stato anche premiato non so se meritatamente o no ma comunque ho scritto tante poesie ecco il poeta ha una visione completamente diversa dal critico e quindi la lettura dantesca ha bisogno anche del poeta il critico vede gli aspetti teologici gli aspetti culturali ma poi ci sono dei meccanismi che nel poeta diciamo si innescano ma che il critico al critico magari sfuggono ecco questa è una cosa importante quando lei ha mostrato l'edera no? che si arrampica su quest'albero su questo tronco fino alla cima è che io queste immagini le vedo andando per i colli e poi mi diventano motivo di poesia mia ecco perché gli alberi d'inverno poi hanno un fascino particolare tra parentesi perché sono nudi oppure hanno questa edera che li adorna così bellezza e quindi voglio dire che io condivido molto anche il suo amore di questa Sicilia di queste sue piante che ho io visto da vicino e che ho attraversato nei miei viaggi amando molto la sua terra ecco complimenti ancora e grazie infinite grazie e arrivederci grazie grazie ecco noi ci avviamo allora alla conclusione se non ci sono altre richieste di di intervento e io esprimo la massima soddisfazione per questa conferenza del professor Manitta che naturalmente è il risultato di molti anni di studio ed impegno costante come si può capire leggendo i suoi lavori ecco e è un esempio quindi inattuale del modo in cui si deve e si dovrebbe fare cultura insomma lontano dal frastuono dei mass media e con molta abnegazione ecco quindi lo ringraziamo ringrazio naturalmente anche tutti i partecipanti e se mi è permesso vorrei vorrei ricordarvi prima di chiudere definitivamente che giovedì 18 febbraio noi avremo Giulio Ferroni il professor Giulio Ferroni che ci parlerà il titolo della sua conferenza è nel bel paese laddove si suona immagini dell'Italia di Dante arrivederci grazie e buonasera